Bene, benvenuti ancora nella nostra scena, come vedete è una scena minion in cui ho fatto soltanto un piano, un cubo, dove ti ho messo anche uno scriptino che era uno scritto precedente e un entrance point in mezzo, e il che si vede perché entrando praticamente vedete che entro in questa zona dove praticamente cosa succede che ho la mia area eccetera, però quello che vorrei farvi vedere è come mettere un environment, cioè come mettere uno sfondo, una skybox si chiama, in modo tale da avere un effetto 3D molto interessante. Quindi quello che voglio fare è sostanzialmente avere, proviamo un attimo a aprirlo, c'è un file che si chiama, che è un file 360 gradi, che è questo qua, vedete che è costruito cercandolo su internet, c'è una sorta di spiaggia in bassa marea, e questa spiaggia in bassa marea vuole mettere una come sfondo invece di questo sfondo stranino. Allora, come si fa questa cosa qua? Bisogna andare dentro il nostro Unity, e dentro il nostro Unity bisogna andare nelle varie finestre e cercare Rendering Lighting, io tra l'altro prendo di solito il Rendering Lighting e lo metto praticamente insieme all'ispetto, perché ce l'ho, e nel Rendering Lighting bisogna andare sull'environment e l'obiettivo è quello di mettere praticamente un materiale nello skybox. Adesso c'è un default skybox che se lo clicco, praticamente faccio doppio clic, mi permette di arrivare a dove è definito, comunque un default, non è anche definito un default, ma noi adesso lo costruiamo esplicitamente, praticamente in modo da ottenere quell'ambiente che vi ho visto qui. Quindi andiamo nel nostro progetto, nella nostra scena, nel nostro progetto, che abbiamo visto che è qua, a sua sinistra, ok, e qui nel nostro progetto ci trasciniamo senz'altro il file, che in questo caso è un file webvp, però lui dovrebbe convertirlo, facendo in questo modo si fa l'import, l'interazione è abbastanza veloce, facendo l'import bisogna poi però andare a cliccare sulla Panoramic Beach, quindi per dire, vabbè, lo fa vedere, però soprattutto bisogna essere in grado di vedere con l'inspector la nostra Panoramic Beach, insomma, come costruita. e questa è un'immagine, in teoria, quindi se la apriamo, ok, piccola correzione, ho dovuto sostituire questa Panoramic Beach, che avevo prima in formato webp, l'ho convertita con un pergambino esterno in un formato png. Vedete che a questo punto la fa vedere tranquillamente, ma soprattutto ci fa vedere i parametri di questa texture. Perché ci interessano questi parametri? Perché all'interno di questi parametri possiamo impostare delle caratteristiche abbastanza importanti, in particolare nelle caratteristiche avanzate possiamo togliere il MIP Maps. Perché togliamo il MIP Maps? Perché questo è responsabile di una linea nera, che si vedrebbe, altrimenti, praticamente qui, in questo momento, e quindi non è bella averla. Quindi togliete il MIP Maps e costruite, quindi importate l'immagine 360 gradi. Dopodiché, una volta importato l'immagine 360 gradi, dovete costruire un materiale con questa, fatta l'apply, in tale che faccia la modifica del MIP Maps, cioè tolto la spunta, e poi costruite un'immagine corrispondente sulla Panoramic Beach. Quindi costruiamo un materiale, e lo troviamo qui, materiale, lo chiamiamo Panoramic Beach. Ok, questo materiale, vedete che c'è questo simbolo di questa sferella, perché l'immagine non è sufficiente, quindi bisogna avere Panoramic Beach, cioè come materiale, propriamente, e nel materiale dovete dirgli, praticamente, che cos'è. Noi, visto che lo vogliamo usare come sfondo per la Skybox, dobbiamo scegliere Skybox, e poi scegliamo, praticamente, Panoramic. E a questo punto, nel Panoramic, ci mettiamo l'immagine, vedete che c'è un simbolo diversino, quindi se noi andiamo nella versione, diciamo così, il Panoramic Beach di prima compare così, il Panoramic Beach che stiamo costruendo compare così, noi, praticamente, cosa facciamo? Prendiamo questa immagine qua, e gliela mettiamo, praticamente, qui dentro il Panoramic Beach materiale. Attenzione a non confondervi, perché il Panoramic Beach immagine, vedete che in questo caso ve lo fa vedere così, no? Se cliccate su questo, viene tutta l'immagine, ma se andate sul materiale, vi fa vedere, praticamente, come apparirebbe il materiale. E, tra l'altro, in questo caso, probabilmente, rimarrà comunque un BIM qua, perché il 360 gradi non è fatto bene. Però, in altri casi, da dove tutto vede, il Mip Maps che abbiamo fatto prima, farebbe scomparire questo effetto. Ora, tra l'altro, tra poco nel video, vi farò poi vedere anche come accade con un materiale fatto ben bene. Però, adesso, quello che è importante è capire che, una volta che avete costruito l'immagine, e poi avete costruito il materiale, dovete metterlo nel Lightning. Nel Lightning, andate nell'Environment, e invece del Default Scalebox, gli mettete come materiale quello che vi ho appena formato. Quindi, vedete che, da questo punto, abbiamo dentro il Unity, abbiamo esattamente queste impostazioni. Allora, adesso cercherò un'immagine, invece, è ben fatta, perché avete questa immagine, sostanzialmente, non è corretta, perché non corrisponde, quindi comparirà lo sfondo, cioè la linea compare in maniera totale. Adesso cercherò un'immagine, quindi vi farò vedere come viene con l'immagine ben fatta. Ok, direi che la faccio vedere anche in diretta, quindi prendo un'immagine, che sembra un pochino meglio, il toolkit che ha, praticamente, adesso ve la faccio vedere all'immagine, vedete, è questa qui, questa immagine ha, ha il, questi due sfondi, che dovrebbero essere adeguati, infatti loro, quindi, cosa faccio? La prendo, la trascino negli assets, no? E quando la importo in questo modo, vedete che dovrebbe tirarla dentro, nel modo in cui ci aspettiamo, no? Questa, parliamo a bici, ecco, è questa qua. Questa immagine, se la vediamo nell'inspector, ci fa vedere quella che abbiamo visto prima, e il materiale che abbiamo qua, invece di metterci questa, quest'altro cosa qua, ci mettiamo questa immagine qua, quindi, praticamente, prendiamo questa, la trasciniamo nel suo materiale, e vedete che qua, facendo in questo modo, si ottiene quel famoso effetto del beam, perché l'immagine dobbiamo farci quel famoso MIP Maps, che in questo momento non abbiamo fatto. Quindi, torniamo nella nostra immagine, andiamo nelle advanced, gli togliamo questo, facciamo l'apply di questa immagine, e vedete che, misteriosamente, ecco, è sparito questa linea nera, di tratteggiata, che compariva, e abbiamo sostanzialmente tutto il nostro sfondo. Quindi, per vederlo, a questo punto, semplicemente salviamo la nostra scena, quindi facciamo il CTRL S, e poi andiamo in test active scene, adatto salvandola, probabilmente farà qualche operazione, in cina, purtroppo, comunque si mette a ricompilare, tutte le cose che ci servono, ok, cerca di scaricare, e a questo punto, togliamo, dovremmo messa sulla sandbox, la sandbox, in cui vediamo, appunto, come vedrebbe, e non so se vedete, abbiamo il nostro, adesso sta continuando a cadere, perché, dunque, vediamo un po', andiamo questo indirizzo, ripuliamo tutti i nostri, eh, close other tabs, quindi, chiudiamo tutti i tab, entriamo direttamente nella sandbox, in cui eravamo prima, dovremmo essere gli unici, la sandbox di Spatial, ecco, e qui dovremmo rimanere, praticamente giusti, ok, e quindi, come vedete, adesso abbiamo un ambiente esterno, che si vede, abbiamo tutti i nostri script locali, quindi se facciamo qui, facciamo interact, abbiamo la nostra interazione, in questo caso, interagiva come un debug, e quindi, siamo riusciti ad ottenere, quello che vi avevo promesso, cioè, quindi uno sfondo, una skybox, e ripetendo, per ottenere questo skybox, abbiamo dovuto inserire, e introdurre l'immagine, quindi, la rivediamo, questa è l'immagine, abbiamo dovuto andare, dentro l'advanced, di questa immagine, PNG in questo caso, e gli abbiamo tolto, il map maps, che c'è qua, e poi l'abbiamo inserito, in un materiale, che in questo caso è questo, e in questo materiale qua, gli abbiamo semplicemente, infilato l'immagine, poi abbiamo preso questo materiale, e l'abbiamo infilato, in un lighting, nella finestra di lighting, dove parla dell'environment, e in particolare, del skybox material, questo qui, che ne abbiamo fatto un lavoro, a scatole cinese, abbiamo messo prima, l'immagine del material, e poi il materiale, nello skybox material, e a questo punto, pubblicandolo, abbiamo ottenuto, quello che ci interessava, e cioè, praticamente, uno sfondo, per il nostro, diciamo, spazio, su spatial, che era quello, che volevamo fare. Bene di tutto, vi ringrazio, buonasera. Grazie.